La struttura ha funzionato e c'è stato un bel momento di collaborazione istituzionale. Credo che possiamo essere soddisfatti dei risultati. Una emergenza che era stata soltanto parzialmente annunciata, ma nessuno poteva prevedere la portata delle stesse condizioni meteo. Devo esprimere innanzitutto il ringraziamento dell'amministrazione comunale nei confronti del prefetto in particolare e della prefettura più ampiamente. Straordinari sono stati i lavori effettuati dalla Capitaneria di Porto, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Ci siamo trovati come un'unica squadra pronta a collaborare. Abbiamo avuto anche dei momenti emozionanti nel vedere il salvataggio di alcuni nostri concittadini che avrebbero avuto veramente difficoltà all'interno delle case che sono state allagate. È stato un bel momento per certi versi dal punto di vista delle collaborazioni istituzionali, ma avremmo benissimo fatto a meno di questo momento di collaborazione se il nubifragio non ci fosse stato. La città ha retto. Naturalmente bisogna rendersi conto che il sistema fognario della nostra città è antico di secoli. Per quanto l'abbiamo modernizzato in molte parti i lavori sono ancora da completare e ci sono grandi lavori da farsi. Abbiamo oggi fatto una riunione operativa per quantificare intanto sommariamente i danni e per pianificare quello che dobbiamo fare. La stessa struttura fognaria sarà oggetto di una pulizia straordinaria e di una manutenzione straordinaria perché la fognatura non può prevedere che ci siano delle bombe d'acqua come queste. Sono cadute in poche ore circa 80 mm d'acqua e questo naturalmente ha provocato grandi disagi alle popolazioni e difficoltà operative. Penso che nei prossimi giorni quantificheremo alla perfezione i danni. I privati che hanno avuto dei danni a seguito del nubifragio potranno fare richiesta tramite il Comune di rimborso degli stessi danni. Penso che questa procedura non dovrebbe essere lunga avendo avuto già dalla struttura regionale la piena disponibilità di collaborazione. Penso che anche le piccole cose di cui ci siamo occupati in questa riunione messe insieme poi siano una bella risposta che dimostra come la protezione civile della nostra città sia efficiente e ben funzionante. Un nubifragio che ha messo a nudo anche le difficoltà del fiume Mazzaro. Da otto anni si chiede l'escavazione del fiume, ostacoli burocratici, cavilli e ancora questo fiume ha dei bassi fondali che acuiscono i problemi come nel caso del nubifragio di due giorni fa. Va precisato che i fondi per il dragaggio del fiume sono stati dati dal Ministero dell'Ambiente. Conosco bene la vicenda essendo stato in quel momento parlamentare della Repubblica e avendo pressato perché questi soldi arrivassero a Mazzara del Vallo. I soldi sono materialmente tenuti dalla regione siciliana. La regione aveva un solo compito, quello di individuare la ditta esecutrice dei lavori e di rendere i pareri necessari per fare questi lavori. Otto anni non sono bastati, la colpa di questo governo, per carità. Ci sono tanti governi che si sono succeduti, però questo governo esiste da un anno e noi da un anno pressiamo presso lo stesso governo e presso le direzioni regionali per risolvere il problema. Pare che adesso qualche cosa si muova. L'ingegnere Pirrello del Genio Civile mi ha detto che per quanto riguarda le sue competenze i lavori possono iniziare anche domani. Io non voglio fare ulteriori polemiche nei confronti di nessuno, nemmeno dal punto di vista istituzionale. Voglio soltanto che i lavori inizino, perché se il fiume fosse stato scavato i danni sarebbero stati sicuramente inferiori. E se noi non provvediamo a scavare il fiume i danni saranno maggiori nelle prossime occasioni in cui si preannunciano altre bombe d'acqua. Quindi penso che i prossimi giorni saranno determinanti per la decisione di scavare il fiume. Se così non sarà qualcuno dovrà risponderne a qualcun altro.